Io sono un cittadino di Rimini, sono un cittadino di Rimini, ho fatto casa, pago il mutuo, quale diritto ha più di me quel rom che si lamenta? Se ne vada a casa e vada a lavorare invece di stare lì a parlare che vuole la casa? A me nessuno me l'ha data la casa, me la son comprata e così devono fare loro, ci hanno detto!